La notte dei ricercatori è una manifestazione organizzata dalle università e da altri istituti impegnati nelle diverse discipline che porta la ricerca fuori dalle stanze e dai laboratori degli studiosi per renderla più accessibile. L'Istat partecipa a questo evento da diversi anni in diverse città per promuovere la cultura dell'informazione statistica. Nell'ultima edizione, a Bologna, abbiamo coinvolto i più piccoli in attività ludiche sulla costruzione e significato del dato, mentre abbiamo invitato i più grandi studenti universitari, ma non solo, a misurarsi con il quiz. Quanto ne sai di Bess? I temi del benessere equo e sostenibile, quali ad esempio ambiente o salute, sono argomenti di interesse generale e di attualità, in grado di stimolare la curiosità e l'interesse in un pubblico non specializzato. Questo ci ha consentito da un lato di veicolare le informazioni sulle misure della qualità della vita, dall'altro di valutare la conoscenza delle statistiche ufficiali prodotte dall'Istat.